Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Filippo e sono qui con un altro spacchettamento da edicola, chiamiamola così. Allora, nella razia, nel raid che ho fatto in edicola, ho trovato questo doppio pacchetto con sintonia e sole e luna con le tre carte di gioco aggiuntive, quindi non troveremo nulla. Un Guardiani Nascenti e un Evoluzioni, un Guardiani Nascenti e un altro Evoluzioni, ma soprattutto un Guardiani Nascenti e un Furie Volanti, quindi penso che ci sia almeno a livello teorico tanta roba, sia in Evoluzioni che in Furie Volanti, poi dipende da quello che troverò. Cominciamo ad aprire il tutto, cercando di non rompere niente. Ok, un pacchetto e un pacchettino da tre, bene, che si è già mezzo aperto. Benissimo, allora, iniziamo col pacchettino da tre, che tanto, anche nel video precedente abbiamo visto che, insomma, tanto pacchettini, tanto per. Abbiamo un Rattata, un Crabominable e un Energia Folletto, sì, direi ampiamente sì. Direi che magari, beh, oddio, per 5 euro avere un pacchettino di tre carte extra, tu alla fine paghi per intero il pacchetto normale. Quello è un extra, quello è un di più. Se c'è qualcosa, bene. Se non c'è niente, oh, era un pacchetto extra. Energia Folletto, Tornadus, Jinx, Foresta Sonnecchiosa, un Tainamo, Ottinamo, un Meditite, un Noibat, un Sea Waddle, un Bello Scorupi, un Fletching e un Latias. Ha però raro, non foil, ma è comunque Latias, dai, insomma. La sua porca figura Latias la fa sempre. Allora, andiamo con questo. Vorrei aprire evoluzioni tutti per ultimi, lo sapete benissimo, ma apro semplicemente a pacco. Quindi non sto lì ad aprire 20 pacchetti solo per aprire prima guadiani nascenti, poi evoluzioni, no. Avevo anche pensato di non aprire subito evoluzioni e di portarvi un video apposta in cui apro solo evoluzioni, ma ho girato e non ho trovato praticamente nulla di evoluzioni, a parte questi due, quindi ho detto, vabbè, non importa. Li apro quando li trovo. Energia Metallo, Komala, Slobro, Collina Scrosciante, Carvagna, Patrat, Gotita, Castform, Tentacle, Ben da Scelta e Politoed Foil. Va bene, dai, bustina tranquilla. Però noi siamo concentrati su evoluzioni. Insomma, vediamo di... Bella, bella, bella densa sta bustina, bella, ecco qua. Bella densa, bella, bella pesante, la sentivo. Allora, carta codice. Il trick è a tre, mi pareva, con evoluzioni. Mi dimentico sempre, abbiamo un Porygon. Abbiamo un legame mentale con Pigeot. Abbiamo un bel Nidorino. Abbiamo un Vulpix, no, rovinata, un po' piegata, guardate. Un po' piegata la carta. Che peccato. Peccato, peccato. Un Senshiu, un Onix, un Magikarp, un Energia Lotta, tenacia di Brock e uno Starmi, giustamente. Perché non si trova abbastanza a Starmi. Occhio, occhio a non prendere i treppiedi, Filippo. Ho già dato una scossona al treppiedi. Peccato, peccato. Nella mia fantasia avevo già pensato a esso. Trovo otto Charizard, di cui uno Full Art, uno... Sì, sogna, sogna, in una bustina. E carta codice. Anche questa è piegata. Spero che non si siano rovinate le carte. Allora, Energia Folletto, Sligu, Be Weir, un Whimsicott, un Jangmoho, un Telo, un Barboc, un Carvania, un Phantom, un BelPolytod e un Eyorisk rara normale. Male, male, male. Ma abbiamo ancora tre pacchetti, di cui una evoluzione per crederci. Insomma, alla fine basta una carta sola. Una a caso, è un Charizard. E si vola, insomma. E mi accontento così. Allora, carta codice. Sperando di non trovare altre carte piegate. Trick a tre. Abbiamo Tenacia di Brock. Manutenzione. Scambio. Nidoran. Ponita. Drosi. Electabas. Vulpix. Doduo. Raichu. Ok. Ok, l'avevo già trovato, Raichu. Però, come rara, non mi dispiace. Non mi dispiace affatto. Meglio sicuramente di tante altre carte. Poteva andarmi meglio. Ultimi due pacchetti. Furia Volanti, manco a dirlo, lo aprirò per ultimo. Perché sono curiosissimo quanto voi. Perché io Furia Volanti non l'ho mai aperto. Questi vengono via decisamente meglio. Maledetta colla. Maledettissima colla. Allora, iniziamo con Guardiani Nascenti. Dove qua trovo sempre Vulpix, Ninthels e mai niente. Oh, ma veramente mai niente di decente. Allora, abbiamo Energia Buio e ovviamente non trovo niente. Anche qua un Lampent. Un Maciocke. Uno Slobro. Un Wishiwashi. Un Jangmo. Un Wimpod. Un Maciocke. Io quante carte sono? Sono 145. Ci dobbiamo da 5 carte. E io trovo sempre Machop in ogni singolo fottuto pacchetto. Wildmer. Barbocke. E provo basso. Infatti avevo detto che non c'era nulla. Perché già lo so. Ultimo pacchetto in uno sbusting che non ci ha dato nulla. Cioè qua il tavolo è vuoto. Niente. Né Full Art. Né GX. Né X. Né Tricaballac. Niente. Abbiamo questo. In copertina c'è Megalatios. Megalatias. Dove essere presenti identici. Se trovassi lui barra lei. Mi andrebbe bene. Mi andrebbe bene. Però non so poi che altre carte bomba ci siano qui dentro sinceramente. In furia volanti. Allora, carta codice ragazzi. Eccola qua. Nel mentre vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale. Di commentare. Era il trick era 3? Di commentare e condividere. Lasciare mi piace a Filippo che non sa fare i trick. Il trick era 3 davvero. Deoxys foil. Raro. Ok. Carino. Tranquil. Altaria. Lea mentale con Requaza. Bagon. Nincada. Pidove. Dansperge. Voltor. Un Dustox. Bello fatto così. Era. Era 3 il trick. Io non lo sapevo. Va bene. Vi. Il video termina qui con la mia. Col mio stupore. Perché non ne avevo idea. Ma non so neanche se queste due carte siano effettivamente rare. O se siano semplicemente carte così. Quindi non so neanche io quantificare se lo sbustino è dato bene o male. Sarei più propenso a dire male. Però dai insomma. È andata così. Noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi. Alla prossimo video. Grazie.